Il russo Karen Kashanov, numero 5 del Siding, e la spagnola Sarah Sorribes-Tormo si sono aggiudicati la 38esima edizione del torneo internazionale giovanile Under-18, città di Firenze, trofeo Cassa di Risparmio, che si è giocato sui campi del circolo tennis delle Cascine. I due hanno sconfitto in finale rispettivamente il belga Ginz con il punteggio di 6-3-6-1 e la slovacca Smjedova 6-2-6-0. Gli ultimi baluardi del tennis azzurro sono stati eliminati in semifinale. L'alessandrino Matteo Donati, classe 95, è ceduto per 6-4-6-3 al belga Ginz, numero 2 del tabellone, mentre Beatrice Lombardo è stata superata dalla stessa spagnola che poi ha trionfato con un secco 6-2-6-0. Matteo Donati, in coppia con il coetaneo Filippo Baldi, si è poi rifatto vincendo il titolo di doppio maschile. Nel femminile si è imposto il duo formato dall'italiana chiesa e dall'imbattibile Sarah Sorribes-Tormo. Gli internazionali città di Firenze si confermano quindi terreno ostile per il movimento di casa nostra. Gli ultimi vincitori targati Italia sono stati Federico Gaio nel 2009 e la Pisana Martina Trevisan nel 2008. Il vincitore del città di Firenze, il russo Kascianov, aveva già disputato la finale dei campionati internazionali giovanili di Berlino e i Russian Masters Under-16 a Mosca. È allenato dal croato Martic ex-coach di Goran Ivanisevic. Per la trionfatrice iberica un percorso con poche difficoltà. Abbiamo potuto ammirare il tuo gioco fatto di grande potenza ma allo stesso tempo un gioco con tante varianti. Palla corta che è forse la tua specialità. È una cosa che studi sempre con l'allenamento? È proprio una tua caratteristica? No, sempre ho giocato così, no? Desde piccola ho giocato così e ora intento seguire quando è uguale. Ok, dice che l'ha sempre fatta da quando era piccolina e ora gli viene naturale e per lei è una cosa importante. Le due finali riprese dalla nostra emittente verranno trasmesse su Sport TVL Canale 193. La sfida maschile andrà in onda mercoledì alle 21, quella femminile giovedì alla stessa ora. Con replica di tutti e due gli incontri a seguire sabato dalle 19 in poi.